Eccolo qua ragazzi tutti i club con i nomi che conosciamo reali Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Giovanni Otto Siamo a provare We Are Football Allora in realtà l'ho già provato L'ho già provato e mi ero un pochino sfavato all'inizio Perché sapevo appunto che ero già senza licenze sia di squadre sia per quanto riguarda i calciatori Però il vostro Giovanni Otto ragazzi ha trovato il modo di mettere tutte le cose a regola d'arte Quindi mi raccomando vi lascerò tutto in descrizione Il link per andare a mettere tutto come si deve Che adesso vi andrò a fare vedere Perché mi ero sfavato? Mi ero sfavato perché non c'erano nessun tipo di licenza E le squadre bene o male si distinguono Ma i nomi dei calciatori e quali calciatori erano Non si distinguevano bene Non erano proprio anche facilmente riconoscibili Soprattutto se si andava a cercare squadre magari che ne so io di serie B Ecco io vi faccio un esempio con il Pisa ragazzi E andare a riconoscere i calciatori non era semplice E quindi mi sono insomma dato da fare per rimediare a questo E ce l'abbiamo fatta Allora il gioco che gioco è? È un gioco di calcio manageriale Un po' come Football Manager Quello più famoso ovviamente Ma non proprio così Ultra mega manageriale O meglio andremo a gestire tutto il contorno anche che riguarda ovvero la squadra di calcio Quindi non andremo a gestire solamente la squadra per quanto concerne calciatori Giocatori, partite, tattiche, formazioni, calcio mercato Ma anche tutto quello che ruota intorno ad una squadra di calcio Quindi il personale Quindi lo stadio Quindi gli allenamenti Gli incontri con i tifosi La gestione degli sponsor Le finanze Insomma andremo a gestire tutto Allora Perdonatemi se faccio qualche errore Perché ci ho giocato pochissimo ragazzi Giusto per dare un'occhiata un po' alle cose principali del gioco Quindi magari ce l'ho Impareremo insieme via via man mano che andiamo Perdonatemi se non c'era una specie di musica di sottofondo Ma era veramente alta E ad ora non ho ancora trovato il modo di abbassare tale musica Tale livello alto di musica ragazzi Quindi andiamo a vedere Possiamo scegliere fra calcio femminile e calcio maschile Andiamo a scegliere il calcio maschile che mi piace di più Possiamo andare a scegliere il database standard di WeRFootball Ma in questo caso non andremo a scegliere il tuo database Perché almeno avremo applicato tutte le modifiche del caso Che adesso vi vado a fare vedere Guardate un po' qua Possiamo fare il nostro allenatore che io avevo già fatto Nome proprio Johnny con 9 cingomma Il signore Johnny cingomma Compleanno 21 dicembre 87 Nato a Lucca Anche se non sono nato a Lucca ma insomma in zona Italia Lingua italiano inglese Arrabattato inglese Club preferito Italia E vado a scelmeli Questo qua che mi sono accorto adesso non l'avevo ancora scelto Allora non me ne avete a male ragazzi Il mio club preferito è la Juventus Quindi se siete anti Gobbi insomma Se siete anti Juventini non me ne avete a male ragazzi Ok e andiamo ragazzi Si va avanti Qua ci fa scegliere come vuoi giocare Modalità carriera o selezione club Allora se decidi giocare in modalità carriera Il gioco ci farà qualche domanda Dopo una sorta di botta risposta Fra alcune domande che ci verranno fatte In base insomma a Se ci piace giocare a pallone Quanto è alto il nostro professionismo nel pallone Insomma in base a queste domande Il gioco in automatico Vi darà tre possibilità di scelta Fra tre club diversi Mentre altrimenti abbiamo L'opzione di selezionare il club Che noi andremo a scegliere Direttamente il nostro club Eccolo qua ragazzi Tutti i club Con i nomi che conosciamo Reali Juventus FC FC Internazionale Milano Atalanta Lazio Roma Milano Milan Scusate Napoli Sassuolo Verona Fiorentina E tutto il cori immediato di squadre Reali finalmente Così come è per la Serie A Così come è per la Serie B Ragazzi tutto ufficiale Tutti i luoghi stemmi Divise ufficiali Meno male veramente Perché non mi ci rinvenivo Non mi ci rinvenivo Non ci capivo Una sega di nulla ragazzi Di nulla Allora Possiamo andare in Spagna Anche qua Vediamo tutto a regola d'arte Ragazzi tutto al top Valencia Getaf Grenada Real Sociedad Villareal Club Atletico De Madrid E così come lo sono Le squadre Lo sono anche calciatori Ovviamente Per esempio Per questo video Ragazzi Facciamo così Scegliamoci La Juventus La Juventus La Juventus Non me la mette a male O se no Andiamo su Non lo so Io sul neutrale Andiamo all'estero Andiamo all'estero No all'estero Non lo vado a fare Vado a fare in Italia Io mi guardo in Italia Si sceglie la Juventus Dai la Juventus Allora Possiamo andare qua A vedere Tutte le nostre Insomma Tutte le statistiche Del club Ci fa vedere In quale campionato Giocheremo Partite giocate Vittoria Insomma Eccetera Partite precedenti Ovviamente Non ne abbiamo nessune Perché è l'inizio Della competizione Avremo a disposizione Qua le nostre competizioni Ci farà vedere Quelle che avremo a disposizione Quest'anno Quindi Campionato Coppa Italia E Champions League Poi Ok Abbiamo lo stadio L'Alliance Stadium Ovviamente Questi nomi Non ci sono Nel gioco Base Ma ci sono Che Andandolo a modificare Ecco No a modificare Che il gioco E tarocco Ragazzi Perché Non mi prende Infraintendete Il gioco È completamente Originale Al 100% Di Steam Ragazzi Quindi Vi garantisco Questo C'è Ci sono delle patch Insomma Da aggiungere Per andare A modificare Un po' Come su PES Ragazzi In sostanza Cambia poco Allora Capacità dello stadio Ci dice L'affluenza media Attuale Di tifosi Magari Ora col covid Insomma Era al zero Ma insomma Va bene Qua Il livello Ecco Questo qua È interessante Il livello Della squadra È valutato In base A delle stelle E ad altri colori Di stelle E ai colori Delle stelle Abbiamo le stelle Di bronzo Le stelle D'argento E le stelle Dorate Quindi come vedete Noi non è che siamo Proprio così tanto Alti di valutazione Poi vedremo meglio Anche come funziona Il discorso Della valutazione Lo devo sempre Un po' Capire Anch'io Perché appunto È un po' È un po' Strambo Giocatori 23 Il livello Attuale 11,3 Credo che sia La media Il valore Del mercato Della squadra Il saldo bancario Eccetera Eccetera Ragazzi Qua ci fa Vedere lo stadio Possiamo andare A vedere Il nostro stadio In 3D Che poi Nel corso Della stagione Nel corso Di quando ci pare Possiamo andare A modificare Con più gradinate Con più cose Insomma Con varie cose Si può andare A modificare Come vogliamo E qua La panoramica Delle strutture Del club Ragazzi Un po' Come se fosse Diciamo Vinnovo Ecco Insomma Dove se Allena la Juventus Adesso Non si allena più Vinnovo Ma insomma È uguale Ragazzi Cambia poco Cambia poco E vediamo Abbiamo tutti i campi Di vari campi Da calcio Di tutti i settori Giovanili E tutte le nostre strutture Abbiamo anche Il campettino Per fare calcio Tennis E pallavolo Insomma Abbiamo un po' Di tutto Abbiamo un po' Di tutto Qua ragazzi Alla Juventus Ovviamente Se partirete Con delle squadre Più basse Non avrete tutte Queste cose Oggi iniziano A preparativi Per la stagione 2020-2021 I giocatori Hanno fatto Rientro dalle vacanze Guardi i loro morti Desiderosi Di iniziare Il primo allenamento Punti azione Per iniziare Ci da questi punti azioni Ok All'inizio della partita E quando Comincerai Ad avere successo Riceverai punti azioni Puoi usarli Per ottenere Vari vantaggi Da usare Ad esempio Nell'allenamento O nelle trattative Sì Praticamente Questi punti azioni Quando li andremo ad usare Tipo A fine allenamento Ti dice Se vuoi usare punti azioni Per aumentare La percentualità La percentuale Scusate Dell'effetto Avuto dall'allenamento Quindi a migliorare Ancora di più I vari parametri Di giocatori Allora qua Ci fa scegliere Più o meno Il piano stagionale Il nostro budget Lo possiamo andare A modificare Di conseguenza Ci aumenta E diminuisce Il valore Della popolarità Come potete vedere Possiamo Modificare Anche L'obiettivo stagionale Ma ovviamente Questo va a incidere Sulla popolarità E sul nostro budget Perché se noi aumentiamo Il budget Per dire Scusate Se noi aumentiamo L'obiettivo stagionale Come prima posizione Ci verrà anche Aumentato il nostro budget Che la squadra E la dirigenza Ci metta a disposizione Ovviamente Puntiamo alla prima posizione Ragazzi Siamo alla Juventus E si gioca per vicere Quindi Prima posizione Buona a sapersi Quando inizierai A lavorare in un club E all'inizio di una stagione Avrai l'occasione Di informare la squadra Riguardo alcune regole Praticamente Facendome la corta Un po' Diciamo La nostra mentalità Di allenatore Vuole sapere E anche di dirigente Quindi Su tre o quattro cose Ci fanno delle domande O meglio Ci danno La possibilità Di scegliere Quale sarà la nostra Insomma impronta Che diremo alla squadra Tipo l'età L'età generale Della squadra Punteremo sull'esperienza Quindi magari I giocatori un pochino Più datati L'età non ha importanza O scommetto Sulla Juventus Sulla Juventus Allora Io direi Che l'età Non ha importanza Così almeno È una risposta Equilibrata Cerco di dare Tutte risposte equilibrate La forma Per esempio L'allenamento È solo un fattore Tra tanti Chiunque può Dimostrarmi Che vuole giocare Durante gli allenamenti Le impressioni Di allenamento Sono molto importanti Io direi Che le impressioni Di allenamento Sono molto importanti Questo stimolerà Penso anche poi La squadra A giocare Ad allenarsi meglio Come si deve Rotazione Ruotiamo molto Come tutti Hanno la loro occasione Scommetto Sulla squadra Di titolari Ecco qua Io Io sono abituato A giocare Abbastanza standard Quando gioco Ai videogiochi Di calcio O meglio Io giocavo Una volta A piccicaccio 2000 Ragazzi Non so se ve lo ricordate Era diciamo L'antagonista Di football manager O se non Proprio quello Che poi è diventato Football manager Non me lo ricordo Sono diciamo Abbastanza stabile Sulla mia formazione Non tendo A ruotare molto Almeno che non ci siano Proprio Degli squalificati O degli infortunati O magari Dei giocatori Che mi fanno arrabbiare Ecco Diciamo che con me Tutti hanno La loro occasione Così magari Si stimola anche Magari Giovani O riserve Da comprare A venire Nel nostro club Nel nostro club Strategia di dirigenza Vogliamo migliorare Nel medio termine L'obiettivo È lo sviluppo A lungo termine O l'obiettivo È il successo A breve termine Io direi Il successo A breve termine Visto che siamo La Juventus Stile di gioco Giochiamo un calcio offensivo Voglio un buon equilibrio Devo essere difficile Segnare contro di noi Ecco Queste sono un po' Delle scelte Che al momento Non si sa Perché deve essere Difficile segnare Contro di noi Si Lo possiamo fare Però Che vorrà dire Poi in campo Che vorrà dire Non si sa Mettiamo equilibrio Nel senso Che vorrà dire Nel senso De noi Dopo si va Fa gollo Si sta tutti Si fa il catenaccio Ragazzi Non lo so Quindi facciamo L'equilibrio Calcio mercato Deve esserci Un giocatore Per ogni fascia Per ogni fascia Di età Non ci interessa Ingaggio Solo giocatori Che possono Rivendere Un prezzo Più alto Non ci interessa Ingaggio Solo giocatori Che possono Rendere la squadra Più forte E certo Questo Potrebbe anche Essere Cioè Questo potrebbe Anche essere Insomma Compro Il giocatore Per rendere la squadra Più debole Mi sembra strano Ok Qua ci fa Segnare Invece I numeri Di maglia Deve segnare I numeri Di maglia Per la prossima Stagione Li lascio Di default Ragazzi Tanto come vedete Un'altra cosa Che ci va a cambiare Come vedete Appunto Finalmente Li vediamo Sono i nomi Gianluigi Buffon Carlo Pinzoglio Con la relativa Immagine Dell'avatar Che vedete qua Altrimenti Nel gioco base Se non l'avete ancora vista Avremo una specie Di avatar Cartonato Che non gli assomiglia A una mazza Ovviamente Perché Non avendo diritti Per tutte le licenze Insomma Dei calciatori Delle squadre Non potevano farli Invece Qua abbiamo Tutto Perfettamente Al suo posto Lasciamo quindi I numeri uguali Proseguiamo Allora La tua settimana Lavorativa Inizia con qualche Con questa schermata Usa le frecce Per scegliere Su cosa Concentrarti Se preferisci Puoi dedicarti In particolare A un giocatore Praticamente Il gioco Si svolge Programmando Le varie settimane Con i lavori Che ci sono da fare Il gioco Puoi insomma I nostri consiglieri Della Juve Insomma Ci andranno A consigliare Quello che c'è da fare Ci sarebbe da fare O da fare Per forza In questa settimana E noi dovremo andare A gestirlo In base A un turno di lavoro Di 8 ore Giornaliere Quindi se sforiamo Quelle solle Poi avremo Delle prestazioni Più Più brutte Perché andremo A stancarci Noi mentalmente Come allenatori La dirigenza I calciatori Insomma Dobbiamo gestire Tutto al meglio I tempi Per cercare Di non caricare Troppo di lavoro Tutto l'ambiente Della squadra Ragazzi Allora Questa settimana Non ci sono partite In programma Ovviamente Perché siamo all'inizio Quindi sarà luglio Qual è la tua priorità Personale Di questa settimana Allora Questa settimana I tuoi dipendenti Danno la priorità Agli appuntamenti Riguardante Questo argomento Ora puoi definire La prima priorità Finanze e sponsor Nessun focus Oppure Sulla prossima partita Direi di no Perché non ci sono L'avanzamento giocatore Lo vedremo Magari Dopo Sono varie abilità Che possiamo dare E sviluppare Ai giocatori Migliora squadra Quindi magari Potremmo cercare Di studiare Verre le tattiche Della squadra L'organizzazione Credo Di tutta la squadra Dirigenza Insomma A livello di tutto Lo staff Magari licenziare Assumere Riguardare Un monte stipendi Tutte quelle cose Là E finanze e sponsor Allora Diciamo di Dedicarci subito Alla squadra Visto che siamo Appena arrivati Dobbiamo farci conoscere Migliora squadra E poi L'allenamento Di questa settimana Su cosa Si concentrerà Allora Puoi decidere D'anticipo Focus Per l'allenamento Molto importante Perché adesso Siamo in una fase In cui il campionato È fermo Ci siamo ritrovati Adesso con la squadra Quindi C'è la preparazione Ovvio ragazzi È giugno Luglio Si sa C'è la preparazione Quindi direi Di fare Di scegliere Vediamoci tutte Le Come si dice Le opzioni Che ci dà Però ci sceglieremo Sicuramente Forma fisica base Avremo il gioco Offensivo Il gioco difensivo I passaggi I gioco sulle fasce Superiorità Inferiorità Numerica Avremo Le partite a tutto campo Contraattacchi Avremo un po' di roba Avremo un po' di roba Ma direi Di andarci A recuperare Scusate Ho detto recuperare A concentrare Sulla forma fisica Di base Perché Dobbiamo potenziare La nostra Condizione Che come vedete Qua Accanto a CR7 È di 62 Al momento Non è proprio Il massimo Perché è stato Un ferre Se è un po' Insomma Ripossato Se è abuzzato È stato Con la subarchina Una grande Possiamo Vuoi far avanzare Un giocatore In particolare Qui puoi scegliere Un giocatore Da incentivare Particolarmente L'impostazione Predefinita Indica Il giocatore Scelto Nella schermata Di pianificazione Stagionale Possiamo scegliere Un giocatore Allora io Al momento Ancora Non ho fatto Niente di questo Qua Il fulminino Sta a indicare Quello che vi dicevo Prima Nell'energia Questi qua su Ragazzi Che ne abbiamo 4 dei punti Da spendere Possiamo fare L'incremento Allenamento Per tutti Aggiuntivo Vedete Tutti i giocatori Riceveranno Un ulteriore Incremento Del 2% All'allenamento Vuoi spendere Questa puntazione Ce lo spendiamo Così almeno Al momento Insomma Spendiamone uno solo E poi vediamo avanti E abbiamo Un miglioramento Del 2% Per tutti I giocatori Allora Buona sapersi Nella home Puoi vedere Una panoramica Del club Ve lo faccio vedere Io senza stare a leggere Allora Intanto Voglio vedere Una cosa Ma non credo Qua sono le opzioni Che abbiamo nel gioco Possiamo cambiare Quando avviene Il salvataggio automatico Quando avviene Insomma La velocità del testo Progressi settimanali La valuta Insomma Il periodo De stipendi Eccetera eccetera Ecco Questo io volevo Almeno magari abbiamo Un pochino di musica No non l'abbiamo Vabbè Non l'abbiamo lo stesso La musica Stiamo senza Magari ce l'aggiungo io In sottofondo E adesso la sentite già Perché l'ho già aggiunta Quindi va benissimo Allora Panoramica Della nostra Home page Ragazzi Qui sotto di me Qui sotto di me Non c'è niente Di che C'è solamente La tua salute Qua Sopra la scritta bonus Che vedete C'è La tua salute Scoppi di energia Quindi praticamente Siamo in buona salute E in forma Quindi vuol dire Che il nostro carico Di lavoro Non è Eccessivo E quindi al momento Stiamo bene Poi Bonus attuale Una nuova speranza Motivazione Finisce dopo delle sconfitte Allora Questo bonus Ancora non ho capito Che cavolo sia Lo vedremo dopo Cosa ci attende Allora Fra quattro giorni Ci ricorda Questo paragrafo Che inizierà La campagna Degli abbonamenti Fra quattro giorni Quindi noi ora Tra un pochino Probabilmente Quando andremo A gestire La nostra Settimana di lavoro Ci farà Decidere i prezzi Quanti numeri Quanti abbonamenti Riservare Ai tifosi Insomma Tutte queste cose qua Obiettivo In allenamento Matthijs De Litte Tecnica Migliorare la sua Tecnica Ragazzi Dell'allenamento Successivo Benissimo Poi Qua abbiamo Il nostro budget A inizio stagione Ancora disponibile Che sono uguali Perché è inizio stagione Il nostro budget Dei trasferimenti Ovviamente Anche del club Credo del club Presumo che sia Riguardante I linguaggi Dei calciatori Qua abbiamo La nostra popolarità Non dell'allenatore Ma della squadra Ragazzi Quindi dirigenza Quindi dirigenza Giocatori 78 Supporter 75 Non ci sono soci Abbiamo 44.998 Supporter Obiettivo stagionale Prima posizione Scadenza del contratto 2022 Abbiamo un anno Solo Ragazzi Assenti Ok Non ci sono assenti Nel momento Nessun dato Ancora disponibile Qui ci verrà A dire Tutti i dati Man mano Che andremo Ad fare le partite La classifica I prossimi avversari Ecco qua Infatti Vedi C'è già Il nostro avversario Sarà il 16 rosto La prima di campionato Contro il Genoa E così via Ragazzi E giù giù Andate Non ci sono ancora Credo quelle di coppa Perché devono essere Sempre sorteggiate Le vedremo dopo E niente Qua invece Abbiamo le finanze Possiamo parlare Osservare un giocatore Il personale Il centro statistiche Che ci farà Vedere tutte le statistiche Ragazzi I marcatori Partite Valutazioni Tutte cose Che però Al momento Non abbiamo Perché siamo All'inizio Della stagione Quindi Non ce l'abbiamo Qua vediamo La squadra Ci fa vedere Tutte le cose Di squadra Possiamo andare A offrire Il rinnovo Di contratto Possiamo andare A organizzare Un colloquio Con un calciatore Spostare un giocatore Mettere una lista Trasferimenti Eccetera Eccetera Tutte cose Che poi Se vi va Ragazzi Meno dite Di seguire Una serie Con un grande calcio Di we are football Meno dite E ci facciamo Una bella serie Manageriale Allora Poi insomma Tutte le cose Sono anche Abbastanza intuitive Poi è presente Un buon tutorial Che ci va Un po' A spiegare Insomma Molto bene Ogni singola fase Ogni singola cosa Da fare nel gioco Quindi è Anche questo È un buon motivo Per acquistarlo Non è laborioso Come football manager Football manager Alle volte È veramente troppo È troppo Io ho provato A giocarci Ci ho giocato Un pochino Ma poi Sono stato costretto Ad abbandonare Perché è veramente Troppo Anche i menu Si capiscono male Secondo me Non è spiegato Per un cavolo Bene Non mi piace Ecco Invece qua È carina Tutta l'interfaccia È carina Allora Quaggiù abbiamo La prima squadra La squadra Di riserva Le giovanili Dipartimento medico Che quando avremo Dei giocatori Infortunati Ci andranno qua Avremo Il discorso Di trovare i giocatori Insomma Il calciomercato Ragazzi Lo troviamo da qua Qui si può andare A osservare A parlare Con i giocatori Ci fa scegliere Il giocatore Per esempio Questo è il mercato Praticamente Qua ci darà I consigliati Che Che ci consigliano Insomma I nostri agenti C'è anche Cristiano Ronaldo Forse perché È il nome di contratto Non lo so Non lo so Ciò da vedere Ciò da capire bene Più che altro Comunque potremmo andare A cercare O scrivendolo Tipo scriviamo Messi ragazzi Messia Junior No Ho sbagliato Perché ok Perché è selezionato L'Italia ragazzi Se noi selezioniamo Niente Ci va a cercare Anche l'io Nel Messi Eccolo qua ragazzi Ben 28 milioni Comediero Il valore di mercato Mi sembra un po' Basta come cifra Ma insomma va bene Mi garberebbe Che anche nella realtà Le cifre fossero così Comunque qua il calci mercato Qui è il calendario L'organizzazione Che ci fa organizzare Insomma anche il ritiro E l'alloggio E l'arrivo Se si vuole un alloggio Bello Poi lo vedremo meglio Tra un pochino Ragazzi Le risorse umane Anche qui Tutta la roba Che abbiamo noi Di staff Ci fa vedere Tutto il nostro staff Che anche quello Potremmo gestire Licenziare E aumentarli I bonus Insomma Tutte le cose L'infrastruttura Ecco qua Ci fa vedere Il nostro stadio Il nostro stadio Che ci dice Che ha 41.200 Posti a sedere Visualizzazione stadio A quello di prima Sviluppa Ecco questo Lo possiamo andare A sviluppare Noi possiamo andare Ad aggiungere Come vedete Queste cose qua Che sono varie tribune Sulla tribuna Questa qua Laterale Sullo spigolo Qua anche Sulle curve Eccetera Eccetera Potevo andare Ad aggiungere Dei nuovi posti Ragazzi Vedete Costi 200.000 Abbiamo un budget Di 10.872.000 euro Per andare A fare questi Questi cambi Ragazzi Però al momento Direi di lasciare stare Anche perché Ora dopo Lo vediamo E si Ci dà Le entrate In caso Di tutto esaurito Però dopo Possiamo aumentarlo Di un pochino Senza scontentare Poi le persone Che andranno A comprare I biglietti Per la partita E ricavare Più entrate Annual E giornaliere Ragazzi In caso di Insomma Per ogni biglietto Venduto O in caso Di stadio esaurito Queste ovviamente Queste cose che vedete Le icone E tutto quanto Non sono presenti Nel gioco Comprato Cioè nel gioco Base Di steam Di steam Ci saranno Aggiungendo Con la patch Così anche come Credo anche La molla Antonina Indiana Qua di Torino E anche Lo juventus Stadium Insomma L'Allianz Stadium Poi che abbiamo Che abbiamo Anche qua Abbiamo Gli sponsor Che adesso Vedremo meglio Ragazzi Abbiamo le finanze Abbiamo il marketing Possiamo scegliere Dopo E delineare Tutti i prezzi Di ogni oggetto Dalle bandiere A palloni Alla biancheria Da letto Insomma Tutte le osse Ragazzi Tutte le osse Che volete Abbiamo la dirigenza Anche qua Il presidente Andrea Annelli Dirigenza Il club Siamo noi Ambizioso Carriera Contratto personale Possiamo insomma Andare a cercare Nuovi dirigenti Possiamo andare A cambiare Un po' di cose Il presidente Non credo Che si possa toccare Ovviamente Ovviamente È lui il capo Quindi niente I supporter Ecco qua Ci siamo I supporter Anche questa cosa qua Devo un po' Capire Credo che siano I fan club Credo che I tifosi organizzati Sta per il fan club Li ultra Ovviamente Insomma Tutta la gente Li abbiamo 45.000 circa Quasi Possiamo regalare Inviare Regali fan In modo Insomma Da farli felici E tutte queste Cosette qua Ok Possiamo anche Dedicare Un budget mensile Alle 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 coreografie Ragazzi Quindi Insomma È tanta roba È tanta roba Ok Allora Andiamoci a vedere Di avanzare Ecco Questo è quello Che vi dicevo prima Qui praticamente I nostri capi Ci andranno a consigliare Quello che Si deve Si dovrebbe E si potrebbe fare Allora In questa settimana Ci consigliano Di cercare Allora Ci consigliano Devo per forza Trovare Lo sponsor Per lo stadio Lo sponsor Tribuna E lo sponsor Per i cartelloni Pubblicitari Poi Si dovrebbe Organizzare Inamichevole Perché insomma Inamichevole Ci vuole E così Magari ci vediamo Anche veloce In una partita Ci dovrebbe Essere tempo Si E si potrebbe Andare a investire Del denaro In qualcosa Organizzare Di tiro Organizzare L'evento Di beneficenza E fare sport Questo è noi Questo è per tenere In forma L'allenamento L'allenatore Allora Cerca sponsor Per lo stadio Eccolo qua Allora Intanto L'uvedì L'abbiamo occupato Vedete Imposta prezzo Dei biglietti Che ci porta via Due ore E cerca Sponsor Stadio Ci porta via Due ore Giovedì Abbiamo gli abbonamenti E va bene Poi lo sponsor Della tribuna Ce lo possiamo Andare a spostare Dove vogliamo Ce lo mettiamo Magari Che ne so io Anche questo A lunedì Così almeno Lunedì Ci impegniamo Tutta la giornata Per Per gli sponsor Cerca sponsor Cartellone Pubblicitari Ok Come vedete qua La settimana Al momento Risulta ancora Rilassante Direi Amichevole Di organizzarla Subito il martedì Belli A posto Si siamo Subito in amichevole Si va a investire Del denaro Il mercolè Noi faremo Un pochino di sport Il mercoledì Ci vuole Ragazzi Il venerdì Si va ad organizzare Il ritiro E l'evento Di beneficenza Allora Sport qua ci rimane Lo potete fare Quante volte volete Settimana rilassante Quindi Cioè siamo a posto Sabato mattina Mi vado a fare Una corsetta Ci dice ragazzi Andando avanti Andando avanti Adesso ci andrà A far pianificare Gli allenamenti Settimanali Possiamo scegliere Cliccando qua Quale allenamento Speciale Insomma Quale sezione Di allenamento Andare ad allenare In ogni giorno Nella settimana Tipo il lunedì Avremo queste due cose Ragazzi Avremo lo sforzo Cambio di gioco rapido Partitelle A zone Piccoli gruppi Direi di lasciarlo Lasciarlo uguale Perché già prima Nella pianificazione Avevamo dato Una priorità Alla forma fisica Quindi direi Di lasciarla stare Infatti se vedete C'è anche Le prove di resistenza Ci sono varie cosette Basate sul fisico Eccola qua Forma fisica base Ecco Direi di lasciarla stare Così è un po' Per il momento È un pochino Equilibrato E cercheremo magari Di capire al meglio Cosa dovremo allenare Durante poi La prima stagione Di gioco Perché Al momento Ovviamente Non è possibile Sapere bene Come allenare la squadra Dovremmo anche un po' Insomma capire Quello che serve Realmente ai giocatori Andiamo Si va Da qui parte La settimana Questo è lo svolgersi Della settimana Cos'è successo? Allora ragazzi Non so perché Mi sarà girato Tutto lo schermo Non so perché Va bene Allora da qua È la settimana Stabilire i prezzi Dei biglietti Allora i prezzi Dei biglietti Al momento Per i posti in piedi Abbiamo 600 Biglietti Disponibili Da vendere A 18 euro L'uno Se noi aumentiamo Come vedete Già di 2 euro A 20 euro La faccina diventa Infelice Quindi l'opinione Tiposi Come vedete Va un pochino giù Però magari di un euro Lo possiamo aumentare Così come i posti A sedere Addirittura Li possiamo aumentare Di 4 euro Quindi 49 euro A biglietto Lo skybox Ne abbiamo 600 Possiamo provare Ad aumentare un pochino Tanto sono ricconi Ok li aumentiamo Fino a 115 euro In modo che avremo Delle entrate Nello stadio Tutto esalito Un pochino più alte Di quelle che erano All'inizio Poi se riusciremo Poi ad andare Ad implementare Più tribune Più gradinate Più Insomma posti a sedere O in piedi O skybox Durante la stagione In corso Nello stadio Riusciremo ancora di più Ad aumentare Questo Queste entrate Settimanali Anzi Ogni due settimane Qua ci siamo Alli sponsor Allora Li sponsor Trattativa attuale Ricevuto un'offerta Dallo sponsor Riguardante un contratto Relativo a un nuovo nome Per lo stadio Quindi Loro ci offrono Praticamente 5 milioni di euro L'anno Per ben 7 anni 8 anni Boia 9 anni 9 anni Ragazzi Perché il totale È 45 milioni Quindi per 9 anni Se ogni volta Che vinciamo Il titolo C'è un milione 7 di bonus Ora io non ho capito bene Qua si firma Il contratto E si accetta Se io vado A provare A modificare Non gli piace Quest'ossami Non gli piace E se faccio tratta Ci dicono Ci stiamo avvicinando All'accordo Non ho ancora capito bene Cosa voglio dire Ragazzi Non ho capito bene Ah Ecco Vedi Sono disponibili A firmare Questo contratto Quindi Per esempio Io ho aumentato Un pochino I soldi Del pagamento Annuale Ho aumentato Un pochino La penalità Di retrocessione Scusate E mi hanno aumentato Il Mi hanno accettato Il contratto Quindi lo firmo Ragazzi Lo firmo E siamo a posto Ragazzi Adesso abbiamo La trattativa Per lo sponsor Riguardante Un contratto Relativo Al nuovo nome Per le tribune Da Tiscali Questo sponsor Non so Non so Se sia presente Nel gioco base O è la patch Dicei direi Di accettarlo Così come E adesso Abbiamo l'ultimo All'italia No Io presumo Che sia la patch Ragazzi Non credo Che ci siano I sponsor Ufficiali Nel Del gioco base Cartelloni Pubblicitarmi Possiamo selezionare Mi sembra 4 Se non sbaglio Quindi all'italia Abbiamo Balocco Si Balocco Ovviamente Ci danno Molti più soldi Ragazzi Lo firmiamo Vado a cercare Quelli più alti Ovviamente Scala Soluzioni Per il pulito Telecomunicazioni Voglio Vado Anticine Da questo Mi firma Subito Il contratto Ragazzi E questo Vieni Ah no Ok Basta Se va a posto Allora Sorteggio Di coppa Ragazzi C'è il sorteggio Della coppa Presumo sia Coppa Italia Ce lo possiamo Vedere tutto Man mano Che si va avanti Oppure possiamo Cliccare E a noi Ci tocca Il messina Ragazzi Il grande Messina Ci toccherà Possiamo Continuare a vedere Se no Si può Anche evitare Quindi lo evitiamo Tanto il nostro Ce lo siamo Visti E qua Invece Si va A organizzare L'amichevole L'amichevole Che si potrebbe fare Contro O il frusinone O il Bayer Monaco O l'Ascoli Calcio O il Real Madrid O il Manchester City O il Siviglia Non esageriamo Magari Visti che è un amichevole Andiamoci da fare Con il Siviglia Andiamoci da fare Con il Siviglia Si sceglie Siviglia No non ne voglio sapere No non ne voglio sapere Il Siviglia Di fare L'amichevole Con noi Neanche il Manchester City Ok Quindi quelle scure Non le vogliono Solamente quelle chiare Facciamocela Allora Facciamo la sera Con l'Ascoli Ragazzi Ora con il Real Un'amichevole Mi sembra esagerata Ritiro giocatore Il tuo giocatore Giorgio Ti informa Che concluderà Ah ok La sua carriera Si ritira Ok perfetto Questi sono tutti i messaggi Che ci arrivano Da giocatori Settimanalmente Adesso come vedete Si è interrotta La settimana Perché ci è arrivata Un'offerta Dal Mainz Che vorrebbero acquistare One Quadrado Ragazzi Qua potremmo andare A fissare L'appuntamento Per parlare Con la dirigenza Del Mainz E gestire Insomma Il contratto Di Quadrado Ma io Rifiuto E vado avanti Perché Quadrado Mi dispiace Ma non lo vendo Allora ragazzi Vi chiedo di nuovo Scusa Non capisco Perché Che si rigira A questo schermo Water San Giulio Non ho capito Perché Non ho capito Perché Spero Non mi siate persi Il discorso Di Quadrado Comunque Ho rifiutato L'offerta Ci viene scritto Se non l'avete visto Rifiuto Appure Collochi Come dicevo Prima E questo è Quello che vi dicevo Qua ci dice Il numero di Abbonamenti Mendibili Lo fa scegliere Ci dice La nostra capienza Capienza Dello stadio Attuale Il numero massimo Di abbonamenti Da 20.000 L'ho portato A 21.500 E possiamo andare A scegliere Lo sconto Relativo Al costo Che te Prendendo I biglietti Di ogni singola Partita in casa Vai a risparmiare Se fai l'abbonamento Se vi facciamo Lo sconto Del 17% Il pubblico È un po' Infelice Se li facciamo Del 18x100 Dicono Che è un prezzo Standard Quindi li va benissimo Proseguiamo Richiesta di trasferimento Eccola qua Se non l'avete visto Quadrato La possiamo vedere Adesso Che sto vedendo Che si vede Lo possiamo vendere Danilo O lo possiamo Rifiutare Al momento Lo rifiuto Perché devo sempre Vedere un po' La squadra Come è fatta Danilo Sinceramente Non mi dispiace Come terzino Potrei farlo Restare a Torino Con noi Sotto la mole Allora Seleziona ritiro Andiamo a selezionare Il ritiro Ragazzi Si può scegliere Una località In base Sia al costo Ovviamente Che ci costerà Tenere tutta quanta Tutta quanta La squadra Lassù Il ritiro Dove andremo Sia al lusso Possiamo scegliere Se avere più lusso Se avere magari Meno lusso Ma più buone Le condizioni di allenamento Il metodo Le opzioni di sbago Magari per i calciatori Allora Ovviamente Più stelle avremo Più ci costerà Ragazzi Più ci costerà Io direi Di cercare Non lo so Un qualcosa di Ecco Magari lusso Svago E meteo Una via di mezzo Condizioni di allenamento Che sono le più essenziali Ragazzi In Inghilterra Direi di andare Qua Direi si Direi proprio Di andare qui No a Doha Proprio Non me la sento Di andare a Doha E ritiro Già in Inghilterra Oddio Mi sembra abbastanza lontana Sinceramente Mi sembra abbastanza lontana Però Va bene così Ragazzi Beh Scegliamo questo Dai un pochino di lusso Sono abituati al lusso i calciatori Da quando? Da sabato 11 luglio Possiamo andare a scegliere Quanti giorni Direi 10 giorni Costerà 50.900 euro Ed eccola qua ragazzi La nostra settimana È praticamente finita Buffon ci informa Che concluderà la carriera L'evento di beneficenza È stato un gran successo Arriva il sabato E si parte Per Attenzione Attenzione Per il ritiro Allora Ci è arrivata Un'offertone dal Napoli La squadra del Napoli Ci offre Il seguente giocatore A un prezzo super speciale Dries Mertens Ragazzi Una punta centrale Che ce la fa Ce la fa Pagare 9 milioni Il valore dei mercati è 11 Quindi sotto prezzo Io fisserei un appuntamento Fisserei subito Un appuntamento Durante le trattative Per un trasferimento È importante Cercare di ottenere Il meglio Dal punto di vista economico Più la trattativa È rischio e rottura Maggiore sarà La prudenza richiesta Per alcuni trasferimenti Una parte della somma È destinata ai club Che hanno cresciuto Giocatore Questa è una regola Internazionale Che può portare Entrolti in attesa Durante lo svolgersi Del gioco Ok Questo è buono Quindi magari Se un giocatore Che è cresciuto Nella nostra primavera Vi faccio un esempio Che anche se non gioca più Marchiso Va via dalla Juve In un certo anno Quando viene venduto Scambiato varie volte La Juve Ne ricava Perché l'ha cresciuto Lui Nel suo Pulcini Insomma Nel suo settore giovanile Della primavera E quant'altro Allora Costo del cartellino 9 milioni Ragazzi La tua offerta 9 milioni Quota della rivente Al 15% Ok Quindi Il Napoli In questo caso Quando noi andremo A rivendere Dries Mertens Se mai lo faremo Ci andrà A chiedere Ciccio Il 15% Tu bello da M Direi di si Ragazzi Io Dries Mertens E' un grande giocatore E' un grande giocatore Infatti non è valutato Neanche poco Poi andremo A vedere meglio Magari le statistiche Quando può essere Al momento di scegliere Il campo Direi di si Io firmo ad occhi chiusi Firmo ad occhi chiusi Ragazzi Subito Lo firmo Visto che ce l'hanno offerto Se lo vogliono arrivare Ditorno Come mai Dries Mertens Ragazzi Incredibile Allora Vuole sapersi Quando tratti con i giocatori E' importante Provare a portare a casa Il miglior contratto possibile Per quanto concerne Le clausole Importanti Di solito Si ottengono I migliori risultati Proprio Quando una trattativa Sembra sul punto di saltare Alcuni giocatori Sono rappresentati Da un procuratore Questo complica ulteriormente Le contrattazioni Se poi Il procuratore Ragazzi Va bene Questo l'ho aggiunto io Ok Allora Possiamo andare Ad aumentare I numeri Di anni Del contratto Opzione di rinnovo Dei giocatori Di un anno Del club Di un anno Ingaggio Ok Se io lo vado A diminuire Ovviamente Io cerco di diminuire No Di aumentare Perché io lo voglio portare A risparmi Il mio club Stipendio base 12 milioni Pia che vorrei dire Per l'anno Penso E questo cosa cambia 1,8 milioni Bonus vittoria 110 mila euro Boia? Ogni volta che vinci Vuole i soldi lì? Sti cazzi Bonus partita 65 mila euro Non ho capito bene Cosa cambia Questi due valori E sinceramente Mi va a diminuire A aumentare L'onere fiscale Ragazzi Non lo so C'è da capirlo meglio Questa cosa qui Proviamo a firmare Il contratto così Ah ok Si rifiuta Perché si sfoderebbe Quindi dobbiamo cercare Di abbassarlo Un pochino Ragazzi Lo stipendio C'è poi da far Ciccio Te lo devo abbassare Devo vedere Se Se ti sta bene Oppure no Vediamo un po' Ah Tratta Ah non volevi Anche trattare Proprio Così magari si No Cercavo di capire Allora Perché non è Non è semplice Io provo a diminuire Tutto Dubito che è Fatto Vedi Allora qualcosa Però ci ha accettato Adesso è rimasto Solamente Stipendio base Proviamo a Ok forse così Ce la firma Però la dirigenza Ragazzi Rifiuta L'ingaggio Rifiuta L'ingaggio Non capisco Perché Sono veramente Tanti soldi E quindi Non si può Non ne facciamo Niente Ma Non si può Niente Attenzione Non si può Neanche Comprare Quindi Driss Mertens Non lo so Lo rivedremo Meglio Ragazzi Puoi dare Benvenuto In squadra Il nuovo giocatore Delle giovanili Ok Luciano Pisapia È un nuovo giocatore Delle giovanili Ok Qua ci fa Vedere Varie Trasferimenti Rinnovi Di contratti Che ci sono stati Allora Qui può Verificare Rapidamente Se i tuoi giocatori La squadra Hanno fatto progressi Dall'ultima partita O dall'ultima settimana Ok Questi sono i progressi Che sono stati fatti Quelli Obiettivi Dell'allenamento E Andiamo avanti Qua Abbiamo il 13 luglio Il programma Sì L'amichevole Con l'asco di calcio Mentre La playstation 5 Super cup Ragazzi Contro il napoli Il 18 luglio Ragazzi Direi di chiudere qua il video Altrimenti Risca di venire un po' troppo lungo Come il primo video Di spiegazione Provato Ci vedremo Nel prossimo video Una partita O più di una partita Cercherò di spiegarvi meglio Cerco di capire Ora In questo tempo Fuori dal video Fuori insomma Dal prossimo episodio Quel discorso là Dell'ingaggi Perché Non l'ho capito molto bene Perché insomma Noi Il budget Ce l'avremmo avuto Insomma Capirò meglio Fatemi sapere che ne pensate Fatemi sapere soprattutto Se vi va Se volete un video Dove vi vado a far vedere Come modificare Tutte le cose Che non hanno la licenza Insomma Per andare Ad aggiungere la patch Tutte queste cosette Fatemelo sapere Se vi va Iscrivetevi al canale Ci diamo appuntamento Qua Come sempre Nei prossimi video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti